allora chi vuole cominciare forza ragazzi nessuno che se la sente vuoi cominciare tu io sì dai prego presentati ciao mi chiamo gaetano e figa ho vissuto a milano gaetano moderiamo i termini attenzione al linguaggio su dai usate tutti questi anni a milano quanti anni sei stato a milano sette anni gaetano no non è così perché leggo nella tua scheda che sei stato più di sette anni mi sono sbagliato a scrivere gaetano noi non siamo qui per giudicarti è vero ragazzi dai su 15 anni e ancora parlo milanese ma non è semplice vai avanti vai avanti dai qualcun altro se la sente di raccontarci la sua esperienza forza ragazzi dai vuoi provarci tu dai ciao a tutti sono la marisa io l'amedeo e io il pio dai l'articolo si mette davanti alle cose non davanti alle persone siamo cose noi allora sono marisa e ho vissuto a milano dieci anni svolgendo il ruolo di professional makeup coach in una bureau academy facevi l'estetista marisa si facevo l'estetista marisa non ti devi vergognare l'estetista è un mestiere come tutti quanti gli altri vogliamo fare un bel incoraggiamento a marisa allora diciamolo tutti quanti insieme dire estetista a noi non giratrista dire estetista a noi non giratrista facciamolo un applauso brava 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 eh e sentiamo marisa quanto guadagnavi al mese a milano? beh millequattro millecinque a volte anche milleseicento euro caspita che stipendio eh si milano premia chi lavora e quanto spendevi per stare a milano? allora di fitto erano 800 euro poi condominio acqua luce riscaldamento altri duecento e sono mille euro la spesa la facevi marisa? eh dovevo pur mangiare no? e quindi alla fine a marisa non rimaneva un cazzo no una minchia proprio una minchia no no non c'è mazzo più non c'è mazzo più non c'è mazzo più cazzo ragazzi capiamo benissimo il vostro stato d'animo il vostro primo giorno facciamo così per sciogliervi un po' vi raccontiamo la nostra storia ok? grazie dai grazie 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 grazie